Lo scopo del video è ragazzi questo, attiviamo subito, guardalo il Samu, 10 anelli a una moneta ragazzi, spettacolare, Samuele ragazzi, migliori in Camposcai eh, siamo quasi a, eh no, il Limu ragazzi di oro. Oggi l'obiettivo è fare un fottio di esperienza, un fottio, ma proprio una quantità senza senso. Eccoci sulla nostra fattoria, buongiorno a tutti tra l'altro, benvenuti in questo nuovo video perché ci sta seguendo su YouTube, siamo all'inizio del livello 41, 610.xp, apparirà adesso una clip del momento in cui ho raggiunto il livello 41, ho sbloccato un po' di razze strane di conigli, nel frattempo qua sta arrivando il postino, mi sembra tre campi per coltivare, un'altra cuccia per i conigli, vabbè insomma un po' di cosette. Ok nel frattempo mi dà una letterina, sono molto corto di oro, sono a 695.000 ma guardate qua cosa ho venduto nello shop, anelli, anelli di diamante ragazzi, guardate qua che botta, guardate qua che botta che ci pigliamo, ecco, ora si ragiona. Allora prima di fare qualsiasi cosa però, perché poi mi perdo, lo scopo del video è ragazzi questo, attiviamo subito il bonus, no ferma che scarta, attiva di 12 ore ragazzi e tanta roba per l'xp, ok? Quindi per 12 ore, fino alle 6 del mattino di domani, xp a manetta. Bene, a questo punto possiamo cominciare a raccogliere la roba qui ragazzi, mettiamo subito a fare il pane, spammieremo tantissimo pane. Raccogliamo tutta la faccenda qui, tanta roba ragazzi, top, guardate qua quanta xp che ci facciamo. Provo a coltivare il grano, non so se effettivamente è la cosa migliore, non so se effettivamente mi darà il bonus. Comunque stavo vedendo che domani ragazzi inizia la nuova stagione, tanta roba. Abbiamo anche le consegne, tra l'altro mi hanno consigliato il buon 47 tuoni di cliccare qua. Qua posso seguirmi tutti quanti i vari eventi della settimana, cioè oggi è martedì, c'è il potenziamento del 30% per due edifici per la pesca, vasca per aragoste e banco da lavoro per le esche, ok buono. Mercoledì domani abbiamo il doppio dell'xp sugli ordini per le barche. A proposito di barca, guardate un pochettino cosa abbiamo, ok andiamoci subito a togliere la barchetta, ci facciamo anche l'xp. Allora mi servono subito delle marmellate di ciliegie e delle more. Nel frattempo vado qua e mi cominciano a cogliere le varie collanine, mamma mia quanti bonus che mi danno. Mi inizio a piazzare, fermati, no infatti non mi spendere le gemme please. Ok qua mi servono i lingotti, quindi vado a prendere i lingotti. Allora come ora ragazzi sto puntando sulle collane, con il livello 41 ho sbloccato anche i bracciali di ferro, quindi ne piazzo uno. Ferre che piazza i bracciali di ferro, lo so, esilerante. Andiamo a piazzare però piuttosto qualcosa fast qua per, eh no non ho minerali. Devo piazzare qualcosa fast lì perché c'ho le fornacci ferme. Ok, piglio tutta quanta la roba qui, anche qua piglio tutto, guardate quanta bella xp che ci stiamo facendo. E così è facile farsi l'xp e ferre. Ok, raccogliamo tutto per bene, nice. Anche qui le formaggette, qua andiamo a raccogliere la lana, ragazzi poi passerò anche da voi, tranquilli. Ah, cosa importantissima in queste fasi, eh non c'ho più carote. Comunque sicuramente prendere l'xp anche dagli animals, eccoli qua. Ok qua abbiamo anche una seghetta, ok facciamo così. Qua non ho dato a mangiare i maiali, sono senza pancetta, ottimo, complimenti. Ok, abbiamo trovato anche un chiodino, vado a prendere un po' di latte, lo do ai gattini. Qua faccio così, vediamo un po' cosa mi esce, carbone e ferro, vediamo un po' se riesco a piazzare. Niente, niente, assolutamente niente, peccato. Allora raccogliamo qua, va bene. Mi dà il bonus? Non mi dà i bonus con il grano, però sinceramente non lo so. Per ora l'ho ripiantato, vediamo poi dopo. Allora inizio a vendere un po' di roba, tra l'altro sto andando avanti anche con gli obiettivi del pass. Ah, c'è un sacco di cotone tra l'altro, lol, ok, facciamo così, ok, cerchiamo di vendere tutto. E soprattutto più che vendere cerchiamo di farci le missioni qua, ecco tra l'altro ci dà già il bonus. Ok, questa la possiamo spedire, è già tanta roba. Questo in teoria mi dà un po' di XP, sì, è in realtà veramente poca, non conviene comunque commerciare con i tizi qua. Ok, allora io qua metterei subito a fare un po' di formaggette e ci sta. Urco, guardalo qua quello con gli anelli, qua mi dà anche un bel bonus secondo me. A parte che mi dà in generale tantissimo bonus la roba delle missioni. Ok, facciamoci anche un po' due giri della ruota ragazzi. Ok, carbon spreso ragazzi, andiamo qua sul pass. Ci pigliamo questi qua che sono importantissimi. Siamo tra l'altro a cinque, non credo che ci possiamo ancora prendere il pavone. No, infatti. Allora diamo un'occhiata rapidissima a Greg, bella per Greg. Uh, guarda che mi dà il mangime, ottimo Greg. Ok, andiamo anche qua. Andiamo ad mangiare le pecore alle, perfetto. Facciamo anche da raccogliere le uova, non vorrei fullare. Ecco, là ho parlato. Devo liberarmi un po' di posto ragazzi. Quindi metto in vendita magari 20 anelli, ok. Metto in vendita anche un po' di queste collanine, ok. Mi metto in vendita anche magari un po' di questi, ok. Ma per ora aspetto, facciamo così. Ok, raccolgo tutto quanto qui, ok. No, ma anzi sai cosa ti dico? Andiamoci pure giù pesanti con gli anelli ragazzi, va. Mettiamone giù altri 20. Andiamo pure con le uova, ok. Tanto nel frattempo vado da Samuele, livello 57. Eccolo il nostro uomo, grazie caro. Guarda quanta robetta che c'ha. Quindi ho visto il mangime per le mucche. Ho visto dei minerali da piazzare qua. Platino, perfetto. Platino again, così queste qua le facciamo partire. Poi ho visto della roba da vendere. No, in realtà. Queste sono da vendere ragazzi, un bel po'. Stop. Finiamo di raccogliere le uova. Ok, perfetto. Tanto qua spediamo altra roba. Cerchiamo di andare belli continui. Vai, facciamo che questi anelli ve ne vengono ancora 20, va. Che mi sto preso bene proprio. Ok, e giustamente insieme agli anelli ci mettiamo anche il grano. Perfetto. Ne raccogliamo altro. Molto, molto fast. Qua ci mettiamo a fare altro pane. Ripiantiamo il grano. Qua completiamo tutte quante le robette. Qua possiamo anche chiedere due aiuti, non è un problema. Ok. Andiamo qua. Bella per il pesce. Paolo Stami dice di ripassare ora. Diamo un'occhiata qua alla pesca. Ok. Ok, mettiamo a fare le esche. Qua prendiamo le retine. Ne mettiamo a fare altre. Raccogliamo qua. Perfetto. Andiamo anche qua. Proviamo a pescare, ragazzi. Vediamo un po' che succede. Ok. Io ci provo sempre, ragazzi, a tirar fuori mezzo pesce. Ma tutta roba che c'ho già, purtroppo. La carpa ramata, ragazzi. Dai, su. Ok. Proviamo a pescare. Ok, un'altra carpa. Non manco me l'avessero ordinato il dottore. Che poi la vera domanda è, ma perché quella casa lì, secondo voi, ha un'ancora? Cioè, non è già ancorata al terreno. Ho tutte carpe oggi, vabbè. Allora dillo che ce l'hai con me. Ci butto una delle mie infinite reti. Ne ho un quintale, ormai di reti. Guardalo il Samu. Dieci anelli e una moneta, ragazzi. Mamma mia. Guarda, ti compro anche questi di anelli. Spettacolare. Samuele, ragazzi, migliori in Camposcai, eh. Ritorniamo a raccogliere il grano. Ok. Ripiantiamo il pane. Ripartiamo col grano. Guarda. Spettacolo. Mettiamo pure in mente ancora un po' di anellini. Vediamo però più che altro qualche missione ci abbiamo da fare. Uh, allora, qua ci chiede il latte. Ok, il latte ce n'abbiamo ancora un po' da prendere. Allora, vediamo un po'. Il latte, perfetto, ecco te. Mettiamo un po' in manetta di grano, di nuovo. Ok. Facciamo ripartire questo. Tanto qua andiamo di bonus XP, come se non ci fossero domani. Diamo anche un'occhiata qua, ragazzi. Alla cittadella. Ok, mi dà un'ascia. Grazie, signorina. Ok. Perfetto, non si faccia investire dal treno, per favore. Lei cosa ha? Ok. Mi dà un asse di legno, grazie. Qua un bodybuilder, ragazzi. Grazie per loro e l'XP. Ok, anche i cuoricini. Clicchiamo di nuovo la signora qua. Sì, sì, vai pure al negozio. Riesco a... Ok, perfetto. Atto d'acquisto. Una mappa, ok. E lui anche l'abbiamo completato. Qua nel frattempo TNT, una sega. E basta, niente di che. Lui vuole della roba che per fortuna abbiamo. Allora, diamo un'occhiata anche qui. Lui vuole andare alla trattoria. Ah no, aspettate, ok. Ok. Lui lo mandiamo alla trattoria, di nuovo. Trattoria. Cinema. Lei dove vuole andare? Però lei va via, ok. Questa. Direi cinema anche lei. Lui... Trattoria, direi. Allora. Lei vuole un gelato e cioccolato. Lei vuole gelato e biscotto. Lui vuole la torta. Lui vuole l'hamburger. Lui vuole... Eh, qua chiedo aiuto, ragazzi. Non ce l'ho. Ok. Va bene o male li abbiamo appiazzati tutti, comunque sia. E quindi ci sta. Ah, volendo posso andare a trovare i miei compari. Ma... Me la evito, sinceramente. Magari dopo. Ehm... Piuttosto, ragazzi, guardate qua il Samu. Ok. Eh, qua mi manca un po' tanta roba. Allora. Oh, questo? Sì, accetto volentieri. Guarda, almeno mi tolgo un po' di quelle porcate. Nel frattempo, barcones completato. Lo facciamo partire, ragazzi. 375 di XP. Con il bonus sono 187. Mi devo iniziare a preparare latte, pannocchi e popcorn, ragazzi. Ok. Quindi direi che i popcorn sono la cosa più easy. Li possiamo mettere a fare anche subito. Magari qua mettiamo a fare una feta, però c'è uno sformato di feta. Le cheesecake, ragazzi, le metto a fare subito perché valgono un buato. Anche qua, sinceramente... Lo sciroppo. Eppure qua mi metterei a fare un po' di cotone. Anche qua, ragazzi, vado spedito con il tessuto di cotone. Magari la ciliegia. Anche carote, se ne avete, ragazzi, sarebbe top. Oh, ok. Grazie, Paolo. Grazie, grazie. Ok, ragazzi. Oggi mi servono mazzuoli. Vabbè, qua lasciamo stare direttamente. No, mi servono i mazzuoli oggi, ragazzi. Vediamo se riesco anche a piazzare qualcosina qua. Ok, bella, 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 bella. Mettiamo di nuovo a fare qualcosina qui. Lingotto di ferro. Lingotto d'oro. E carbone raffinangi. Ok, diamo un po' di pancetta ai maialini. A quale, nel frattempo, chiedo aiuto. Bello. Prendiamo anche un po' di seghe. Samuele oggi è particolarmente lanciato. Direi lanciato, proprio. Grazie, caro. Bello anche per il latte. Aspetta, arrivo subito. Raga, io qua faccio fuori un po' di anelli, sempre. Ma grazie, zio. Via manetta col pane. Ok, mazzuoli me ne serviranno ancora, ragazzi. Ma che è sta roba, ragazzi? Vabbè, fermati, fratelli. Ma tu! Ah, ma aspetta, erano quattro. Erano solamente quattro, ok? No, pensavo fossero da dieci. Mi sono preso un attimo male. Quattro sono perfetti. Eh, ci vorrebbe una pala, una TNT, una sega. Proprio uno, uno, uno. Tanto vi faccio un po' la lista della spesa, ragazzi. Ma guardalo, che spettacolo. Grazie. Diamo manetta con le missioni. Potrebbe fullarsi. No, per fortuna. Lei cosa vuole? No, vatti a fare un giro. Via, spediamo veloce di nuovo. Comunque abbiamo fatto già circa 11.000 di esperienza, e non vorrei dire. Eh, cerchiamo di farmarci più livelli possibile, ragazzi. Ho messo due pannocchie per sbaglio, vabbè. Tra l'altro non ho fatto caso alle daily del pass. Adesso vedo un attino cosa c'è da fare. Prima qualcosa l'abbiamo già fatto, senza neanche rendercene conto. Bella, Samu. Grazie. Forse, Samu, preferisci che passo quando me lo dici te. Pianta 30 di cotone. Fa salire un visitatore della città sul tuo treno. Come si fa? Comunque, raccogli cotone, raccogli qua, raccogli là. Eh, non ho tutte ste missioni da fare. Come si fa a far salire un visitatore sul treno, ragazzi? Ah, tipo, faccio così? Ah, figo. E quindi cosa succede? Che se torno qua, arriva il treno dei visitatori? Vabbè, allora, io mi sa che qua, ragazzi, devo fare di nuovo un salto a tutti. Allora, Samu. Se qualcuno mi compra gli anelli, mi fa una cortesia. Ok, fave niente, grazie. Bella per i mazzuoli. Ok, compro tutto direttamente. Metto di nuovo in vendita un po' di ste anelli, ragazzi, va. Dai, ne metto 40. Così facciamo un po' di posto. Ok, qua spediamo veloce. Eh, ragazzi, mi servono lingotti d'argento, di ferro, di platino. Lingotti di ogni tipo. Se qualcuno ce li ha. Bella, zì. Bella, zì. Ragazzi, basta, mazzuoli. Basta, basta. Adesso vi dico io qualcos'altro, perché se no qua non ce la facciamo più. Assi di legno, toh. Però, ragazzi, pochi perché sto per raggiungere il limite giornaliero, eh. Ok, bella le assi di legno. Uh, guarda quanta bella robetta. Top. Sì, tra l'altro, Samu mi ha fatto ricordare che io qua c'è un po' di schifo da togliere. Infatti, faccio così. Faccio così. Eh, mi manca una dinamitina. Qua mi servono atti d'acquisto, ma questi... Eh, se qualcuno avesse un po' di atti d'acquisto non sarebbe male. Mi tolgo sto pezzettino qua, mi allargo ancora un po'. Ok, spediamo di brutto. Grazie, Biff. Intanto siamo a 850.000. E qua, ragazzi, c'è la lista da fare di nuovo. Ok, top. Ok, nel frattempo, primo step di livello 41 raggiunto. Siamo quasi a 20.000 di XP. Bella, zì. Grazie. Bello, grazie mille. Vediamo un po' se per caso... Eccolo lì. Ce l'abbiamo. Quindi qua posso fare tutto pulito. Guarda che spettacolo. Io anche qua. Oh, yes. Ragazzi, siamo allargati proprio bene su sto villino, eh. Comunque, GG. Facciamo così. Spigliamo pure tutto. Top. Non è che riesco a mettere qualcos'altro in coda, in cottura. Un gotto di ferro. Un altro di carbone. Vediamo un po'. Bello, The Imp. Grazie, caro. Ok. Compendiamo un po' di robetta. Lei desidera? Le fave? Vado a farsi un giro, per favore. Signori, sono un po' indeciso qua con sto tetto, eh, io. Mi sa che il prossimo video lo pigliamo. Spediamo al volo. Pingottini. Bello. Io direi, signori, che abbiamo raggiunto di nuovo una situazione molto interessante anche per oggi. Adesso ve la illustro. Domani mi serve latte, popcorn e pannocchie. Eh, pannocchie non ne ho. Ragazzi, se qualcuno vuole spammarmi delle pannocchie sul finale, ma solo pannocchie, le prendo al volo, dai. Ragazzi, uno che mi compra un pezzettino di grano così... Ok, grazie, almeno riesco a passare da quell'uomo. Basta, raga, ho finito. Per oggi ve lo dico, non compro più niente. Eh, però che cacchio, me ne metti due e lo fai apposta. Ok, grazie. Perfetto. Allora, abbiamo fatto la bellezza di 37.311 di XP. Potevamo far di più? Sicuramente sì. Però la cosa figa di questo bonus è che non solo ci dà il 50% in più di esperienza, ma dura per 12 ore. Quindi in realtà io andrò ancora molto avanti con questa cosa. Anzi, lo sto già facendo, come potete vedere. Però vi faccio notare una roba. Siamo quasi a un milione, ragazzi, di oro. Ovviamente non lo faremo adesso insieme, ma lo faremo nel prossimo episodio. Esatto. Voglio raggiungere con voi il milione di oro sui dei. Ci proveremo. Vediamo se nel frattempo qua facciamo ancora qualche minerello. Sì. Nice. Ci siamo fatti ancora un bel po' di XP comunque con questa piccola minata. Mettiamo pure in coda altre collane e perché no anche dei popcorn al miele che a quanto pare sono diventati richiestissimi. Insomma, per ora è tutto. Ragazzi, un saluto da tutti e ciao belli.